Tecno Piemonte nasce dalla mia curiosità che mi accompagna da sempre, curiosità di conoscere le cose che non conosco e sapere le cose che non so, perché non possiamo dimenticare che viviamo per migliorare e imparare cose nuove giorno dopo giorno. Ho tenuto il diploma geometra, ho deciso di dedicarmi al settore delle costruzioni. Questa decisione fa decollare in pratica l'idea di Tecno Piemonte. Si verifica esattamente nel novembre del 68, dopo un mese di ottobre trascorso con delle temperature quasi estive, iniziò una serie continua di piogge ininterrotte e da lì preso origine l'alluvione che avvenne nel Biellese del 68 con straripamento di corsi d'acqua, distruzione di case, di fabbriche, trade, ferrovie e, ancora più grave, vittime innocenti di questo evento. Io lì decisi di voler capire quali potessero essere le cause che dettero origine a questo evento. Decisi di avviarmi ad avere un'esperienza diversificata, quindi cominciato con un'impresa di costruzioni come capocantiere, poi sono passato all'impresa stradale, al tecnico comunale, alla collaborazione con uno studio di direzione lavori. Ho avviato e gestito un consorzio di produttori di calcestruzzo e cave, avendo 27 impianti di betonaggio da gestire. Dopo questo insieme di esperienze mi mancava un tassello importante, volevo conoscere le caratteristiche dei materiali da costruzione e lì catturé l'idea di avviare il laboratorio dedicato a questo tipo di attività e ricordo che sì, conoscevo l'esistenza delle cambiali, però per la prima volta mi sono trovato a firmarli di persona perché dovevo poter acquistare le attrezzature per il laboratorio, se no non avevo altra scelta. Così come ricordo anche il fatturato del primo anno in misura di circa 70 milioni di lire. Questo venne raggiunto con quelli che avevo come collaboratori iniziali, che erano tre tecnici e una segretaria contabile. Buona parte di queste persone sono ancora oggi qui presenti con me. Il laboratorio iniziale che venne riconosciuto dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici con il primo decreto dell'ottobre dell'82, il 4 ottobre dell'82, fu seguito questo decreto da altri decreti che vanno dalla geotecnica al riconoscimento del laboratorio di ricerca, poi anche riconoscimento da parte di altri ministeri, dall'industria, dall'interno, tutte una serie di step che consentiranno a Tecno Piemonte di ottenere la notifica europea per la marcatura CE sui prodotti a costruzione. Siamo stati il primo laboratorio ad essere riconosciuto per la marcatura CE sui cementi, primo laboratorio privato quantomeno. Ricordo che avevamo dato la nostra disponibilità per collaborare con il Servizio Tecnico Centrale del Ministero per eseguire tutte le prove che servirono per rilascio del benestare tecnico europeo che fu il primo benestare tecnico europeo rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale. Questi quindi primi 43 anni sono stati impiegati tutti per una continua evoluzione con tutta una serie di altri settori di laboratorio. Il più recente, diciamo, e non certo l'ultimo, quello della microbiologia. Ho sempre dato una particolare attenzione ai lavori dei cantieri e ricordo quindi anche i primi anni che partecipavo personalmente sia alle fasi dei prelievi dei campioni che dalle prove sia distruttive che non distruttive, nonché ai successivi test da effettuare in laboratorio. Ho citato la mia piccola squadra iniziale che oggi è formata da una famiglia più numerosa perché annoveriamo oltre 100 collaboratori. Ce ne sono alcune decine che sono accreditate e dotate dei vari patentini come ispettori. Ho avviato dei gruppi di lavoro con le università, con Confindustria, soprattutto rivolti al controllo delle opere esistenti. Stiamo facendo una serie notevole veramente di controlli strutturali su ponti, viadotti, gallerie, autostradali e non solo. Devo riconoscere che questo è reso possibile da parte nostra perché sono orgoglioso dei collaboratori e delle collaboratrici presenti. Io nei prossimi mesi lascerò Tecno Piemonte, esattamente dopo l'approvazione del bilancio di gestione dell'anno 2023. Il dispiacere che ho è dovuto al passaggio che ho assistito in questo mezzo secolo di attività, passaggio che ci porta dagli eventi alluvionali al dissesto idrogeologico dell'intero paese. Se pensiamo, oltre che ai nostri stessi, ai nostri figli e alle generazioni successive, è meglio che affrontiamo in un mondo serio e non solo a parole ma infatti nei giusti modi e termini quello che dobbiamo assolutamente fare.